Il Paradisi delle Signore Nove, anticipazioni, Maria resta sola a Parigi, Marcello innamorato. Le prime anticipazioni del Paradisi delle Signore Nove di settembre rivelano che Maria Puglisi si ritroverà sola a Parigi dopo che il suo fidanzato Matteo tornerà a Milano. Un ritorno di Maria nel corso delle puntate autunnali di questa nona serie non è previsto, complici anche i nuovi impegni professionali dell'attrice Chiara Russo. Intanto Marcello si renderà conto di essere innamorato della contessa Adelaide e in questa nuova stagione inizierà a prendere in considerazione l'idea di poter compiere un passo avanti importante con la sua amata. Puglisi resta sola a Parigi, anticipazioni il Paradisi delle Signore Nove per Maria e Matteo arriverà il momento di separarsi, visto che la stilista porterà avanti la sua avventura professionale a Parigi mentre il fidanzato ritornerà a Milano. Come anticipato da Danilo D'Agostino in questi giorni sui social, è già tornato sul set per le riprese della nona stagione che lo vedranno ancora una volta protagonista. Nel momento, però, non si conoscono ancora i motivi ufficiali che hanno spinto Matteo a rientrare in città anticipatamente, di sicuro non ci sarà Maria al suo fianco. La presenza dell'attrice Chiara Russo non è prevista sul set per i prossimi mesi di registrazione degli episodi, complice anche il nuovo impegno professionale che la vede coinvolta nel cast di Mina Settembre 3. Marcello sempre più innamorato le anticipazioni dei prossimi episodi della soap opera rivelano che si parlerà anche di Marcello Barbieri, dato che si renderà conto di essere follemente innamorato della Contessa Adelaide. I due si mostreranno inseparabili e, questa volta, Marcello non avrà alcuna intenzione di perderla. Nel corso della stagione, si renderà conto di essere pronto a compiere un passo avanti importante con la sua amata e non è escluso che possa arrivare a sorprenderla con una proposta di nozze che, di sicuro, lascerebbe la Contessa interpretata da Vanessa Gravina senza parole. Adelaide aveva messo in stand-by la relazione con Marcello nella stagione precedente della soap, la relazione tra Adelaide e Marcello aveva subito una battuta d'arresto dopo che la donna aveva scoperto che la figlia che credeva morta era viva. A quel punto Adelaide aveva scelto di lasciare Milano per qualche mese e di trasferirsi in Svizzera per stare al fianco della sua amata Odile. Prima di andare via aveva chiuso la relazione con Marcello, così da poterlo lasciare libero di farsi le sue esperienze. Un duro colpo per Barbieri che si era gettato a capofitto nel suo lavoro senza concedersi svaghi.